e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova presentazione oggi per la better contracts di royal modding contratti missioni su farming riguarda questo ma lo riguarda in che maniera voi avete due contratti non vi piacciono pulisci lista tasto c ne capitano degli altri poi tasto x se ne volete ancora di nuovi quindi random lui va a generare generarne degli altri come vedete vedete dopo ovviamente potrebbe generarne tanti pochi e random alle volte ovviamente si ferma dovete pulire la lista potete ricercare altri contratti dipende tanto anche dalla mappa del numero di campi e tutto in funzione anche di quel numero appunto anche del numero dei campi quindi non vi agitate ma potete sempre ripeto pulire la lista e crearne di nuovi se non vi aggradano le cose particolari da vedere e sapere sono l'ordine e la pulizia l'organizzazione quindi ad esempio i contratti di fertilizzazione sono tutti raggruppati come sono tutti raggruppati quelli di mietitura ad esempio in questo caso volgimento balle poi dipende anche dal periodo in cui vi trovate ovviamente escono anche i contratti di coltivazione tutti gli altri in questo caso particolare qua sull'erlengrat sono usciti solo questi però ripeto può capitare di tutto l'ho provato su altre mappe è compatibile con tutto e ripeto la particolarità che siano raggruppati e non aver tipo fertilizzazione mietitura e coltivazione dopo di nuovo fertilizzazione che bisogna stare lì a cercare tanto diventare matti è già un gran passo avanti ed è ordinata questa cosa in più in più cari miei un'altra particolarità è che vi offre appunto senza cercare mod aggiuntive di accettare questo contratto poi già che fate la fertilizzazione il campo 6 è vicino uno cosa fa accetta anche l'altro quindi più contratti nello stesso tempo per assurdo siete anche con la mietitrebbia e siete in due cosa succede potete attivare lo stesso contratto quindi più contratti multipli nello stesso tempo una volta appunto accettati i contratti vedi campo 2 campo 4 campo 6 quando voi andate sulla mappa quella sia col esc e poi vediamo anche nella mini mappa vedete i campi che avete scelto insomma di fare emissioni su quei campi vengono selezionati vengono i numeri lampeggiano questo funziona ve lo faccio vedere anche qua con la mini mappa la metto sfondo al cielo vedete 2 4 6 lampeggiano così siete anche più comodi per andare a cercare il campo specialmente in mappe magari che ne hanno magari anche più di 100 è una finestra ma fa molto comodo e detto questo ragazzi vi ricordo che è molto importante il vostro voto quindi andate a votare la mod e le altre loro mod su mod ab perché è importante per loro indipendentemente ovviamente dal voto che deve essere come dire il più onesto possibile da parte vostra in base a quello che reputate giusto per loro importante insomma capire in che direzione andare quindi vi ricordo appunto andate a votare la mod detto questo vi saluto vi ringrazio e come al solito ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ragazzi